Lunedì prossimo ci sarà una compagnia autottola, locale, giocate in casa, tirate fuori l'amor di patria. Certo, noi siamo di Rosciano quindi giochiamo in casa, siamo lunedì 6 agosto all'arena BCC con Ginga Balà in pista da 40 anni, è un lavoro che è legato al fatto che quest'anno festeggiamo 40 anni di attività, quindi un bel traguardo per noi. Eh beh direi che è un traguardo invidiabile. Sì, sì, è un bel traguardo e infatti lo spettacolo vuole un po' festeggiare questo evento, è un lavoro diviso in quattro quadri presi da Commedia di Shakespeare, un quadro per ogni decennio e ambientato in una discoteca che nel tempo cambia come cambiano le musiche, le mode e le atmosfere. Dalli qui, Ginga Balà che vuol dire andiamo a ballare. Esatto, sì, sì, è un invito al divertimento. Al divertimento, naturalmente situazioni comiche, c'è sempre una base diciamo così. Sì, 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 è una rivisitazione di alcune Commedia di Shakespeare però in chiave comica, in chiave comica divertente. Quanti siete in palco? Sul palco 23. Però? Sì, è un bel gruppo, molti giovani e tutto un lavoro molto corale. Metterli tutti insieme non deve essere facile. No, infatti la bellezza e la difficoltà di questo lavoro è stato proprio quello di coordinare tutto, merito della regista che ha fatto un lavoro egregio insomma. Quindi lunedì prossimo, ore 21, al teatro BCC Arena con Ginga Balè in pista da 40 anni. Ecco. Paralea, pin d'app, pin d'app.